Allora, salva a tutti, siete con Radio Paladini, la web radio dell'Istituto Comprensivo Egisto Paladini di Treglia, ci fa molto piacere oggi regalarvi un po' le nostre riflessioni e diamo subito il microfono, come diciamo qui in radio, alla nostra preside, la professoressa Angela Fiorillo, alla quale chiediamo una sua riflessione su questa nostra esperienza didattica e non solo, vero preside? Sì, effettivamente è proprio così, buonasera a tutti. La Radio Paladini è un'occasione per confrontarsi, per parlare, per scambiarsi tante informazioni, è una delle attività che sono state introdotte per accompagnare la didattica a distanza. È diventato appunto un modo per coinvolgere studenti, alunni di tutti gli ordini di scuola, docenti, ma non solo, famiglie, ma anche altre persone, amici, persone della comunità, della comunità di Treia, del territorio, il vice sindaco e altre persone. E quindi una serie di ospiti che nelle varie puntate si susseguono e intervengono su tante temi, l'esperienza del coronavirus, dell'esperienza della didattica a distanza, la cucina, le tradizioni della storia di Treia, delle tradizioni culinarie, insomma tantissime iniziative, tantissime attività. Io devo dire che aspetto ogni volta il link a una puntata perché mentre lavoro in sottofondo ho sempre la Radio Paladini che ci accompagna. Bene, ma adesso ascoltiamo tre nostri intervistatrici, tre ragazzi, Aurora, Giorgia e Alessia. Secondo me è un'esperienza bellissima perché impariamo molte cose nuove e poi noi siamo i protagonisti, quindi cose nuove che ci potrebbero essere sempre utili per il futuro. E ecco sempre. Noi siccome dobbiamo stare a distanza per questioni di sicurezza facciamo delle videochiamate in cui ci organizziamo e ognuna di noi esprime delle idee e poi riflettiamo sui turni e su cosa sarebbe opportuno domandare ad una determinata persona. L'esperienza bellissima e unica perché non so quando mi potrebbe ricapitare di fare queste cose, quindi è molto bello. Ho imparato ad esprimermi con tutti, a parlare senza aver paura e soprattutto ho imparato a conoscere nuove persone, magari anche nuovi mestieri. Bene. Hai ragione, un aspetto da sottolineare questo, siamo in contatto con, dico con il mondo ma quasi, abbiamo avuto ospiti da tanti paesi, è vero, che ci hanno raccontato delle loro esperienze, dei loro viaggi e anche di come stanno vivendo questa situazione di emergenza. Quindi è stata anche un'occasione per confrontarci, per capire come la stanno vivendo gli altri paesi e questo non ci fa sentire più soli, no? È un modo per condividere anche questo momento così un pochino particolare, un po' difficile che non avevamo mai sperimentato. Grazie.